Ci sono dei comportamenti che creano le morti, perché ci sono state migliaia di morti nel Mediterraneo. Se io non voglio che le persone muoiano nel Mediterraneo, che cosa faccio? Continuo a far finta che qui si stia parlando di salvataggi. Attenzione, un salvataggio è una nave che parte per fare un giretto, ha un problema e allora si interviene per salvarla. In questo caso, penso che tutti che siano minimamente in buona fede sanno che non sono barche che partono per fare il giretto turistico sulle coste della Libia e poi hanno qualche problema. Qui c'è una massa di persone che vuol venire in Italia. Le possibilità sono solo due se si vogliono evitare le migliaia di morti, migliaia di morti che ci sono state nel Mediterraneo. Si vuol rendere la rotta sicura? Benissimo, non si mandano le ONG a fare i trasbordi. Si mandano i traghetti in modo tale che così nessuno muore, ma si prende la responsabilità politica di dire che si sta aprendo una rotta dove chiunque voglia viene in Italia senza limiti. Questa cosa del traghetto l'ha detta esattamente Luigi Di Maio ieri. Cioè, a questo punto è meglio mettere un traghetto. Lo so, ma io la dico da due anni e Di Maio copia tante volte cose che dico io, ma questo è un concetto che chi è affezionato alle trasmissioni sa che ho ripetuto da anni. E intanto i morti hanno continuato ad andare. E intanto si è cominciato invece a introdurre un altro concetto che ho sempre introdotto io in queste trasmissioni e ogni volta che mi è stato chiesto un parere. Che è quello di limite. Perché se io anche rendo sicura la rotta, a un certo punto devo pormi il problema del limite. Quanti ne possiamo accogliere? Una volta che è arrivato questo numero, che può essere tanto piccolo e secondo me è già stato superato da molto tempo. Che cosa facciamo? Dato che non possiamo pensare di vivere tutta l'Africa, l'Italia. Borghi, mi sembra che questo è un concetto che, se non mi sbaglio, è anche di Matteo Renzi sul numero chiuso. Allora a quel punto bisogna partire con i respingimenti. Eh sì, certo che l'ha detto Matteo Renzi. Dopo la scopola elettorale. Castaldini? Dopo la scopola elettorale, quelli del Partito Democratico hanno cominciato a svegliarsi assai. Grazie.